Il 25 aprile del 1945 l'Italia festeggiava la liberazione del paese dal gioco nazifascista. 79 anni dopo si continua a celebrare una ricorrenza fondamentale per la storia del nostro paese in cui affondano le radici della Costituzione italiana e della democrazia. E anche l'Abruzzo, come ogni anno, anche quest'anno, ha voluto celebrare, rendere omaggio a quanti hanno lottato sacrificando la propria vita per la libertà, in quello che è il luogo, simbolo in Abruzzo, della resistenza e della lotta partigiana. Il sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna. Con la firma dell'armistizio del governo Badoglio l'8 settembre del 1943 l'Italia si arrendeva alle Nazioni Unite e veniva occupata dai nazifascisti. Fu in questo contesto che un gruppo di combattenti e patrioti il 5 dicembre del 1943 diede vita a Casoli a quella che passerà alla storia come la Brigata Maiella, l'unica formazione partigiana decorata con medaglia d'oro al valore militare nel 1963. Luogo simbolo della resistenza e della lotta partigiana, il sacrario della Brigata Maiella, inaugurato nel 1976 a Taranta Peligna, è stato il ritrovo di cittadini, comuni e associazioni che hanno sfilato con una parata di gonfaloni per deporre una corona dall'oro ai caduti. Luigi Borrelli, presidente dell'AMPI, l'associazione nazionale partigiani italiani per la provincia di Chieti. La Brigata Maiella è stata un unicum nella resistenza perché non solo ha liberato il proprio territorio insieme agli alleati, ma ha continuato la lotta addirittura fino al Veneto. Trasferire la memoria significa ricordare alle future generazioni che ci sono state persone che hanno speso la propria vita per garantire la libertà a tutti. La memoria noi la possiamo trasferire ricordando e non dimenticando quello che è stato il fascismo. Noi dobbiamo far sapere a tutti che la libertà che abbiamo adesso non è che ci è stata regalata. Senza l'impegno dei partigiani molto probabilmente noi avremmo avuto una vita, un'esistenza diversa. Carmine Ranieri, segretario generale della CGL per Abruzzo e Molise. I sindacati CGL, Cisle e Will presenti oggi. Oggi si parla di una festa divisiva ma in realtà stiamo parlando della liberazione dell'Italia. Quindi i partigiani antifascisti ci hanno dato la libertà. Per cui oggi dire che questa festa è divisiva significa non voler riconoscere i valori della resistenza, i valori della nostra Costituzione. E poi credo che oggi sia una festa importante perché tutti noi dovremmo difendere i valori scritti nella nostra Costituzione in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo. A partire dal valore della pace. L'Italia ripudia la guerra e quindi è necessario in questa fase complicata dove le guerre dilagano che ci sia il popolo che chiede pace. E dall'altra parte difende i valori della Costituzione vuol dire anche difendere i diritti al lavoro. Ecco perché noi sindacati siamo qua. Il diritto alla sanità, quindi i diritti sociali, i diritti alla libertà di espressione. Pensiamo a tutte le polemiche rispetto a scrittori, giornalisti che vengono censurati. Deve essere davvero una festa per tutti gli italiani. Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico. C'è da registrare l'assenza di una parte politica importante della Regione Abruzzo? Questo mi dispiace molto. Questo è il luogo simbolo della resistenza in questa Regione, in questo Paese. Mi sarei aspettato oggi di trovare qua il Presidente della Regione o rappresentanti istituzionali del rieletto Governo regionale. Sono molto dispiaciuto di questo. Sono sicuro che Marsilio oggi saprà trovare parole unitarie, giuste, per definirsi e definire la sua parte politica convintamente antifascista. Noi orgogliosamente siamo venuti anche oggi qua, sapendo che questa deve essere una festa che unisce tutti e che non divide.